La natura di alcuni di noi ha fatto sì che con quella paura indotta, a Roma si diceva hanno sbroccato, ma Vasco Rossi che si metteva le mascherine nelle mani, me lo fate vedere Vasco Rossi con le mascherine nelle mani, perché l'ha detto io le mascherine me le metto pure sulle mani, Vasco Rossi, hai capito? Una delle più grandi delusioni, una delle più grandi delusioni per quello che mi riguarda, uno dei miei idoli con le mascherine sulle mani, che inveiva contro i cosiddetti Novax, perché c'aveva paura, la paura, avete capito? Uno che sembrava coraggioso, che si è fatto di tutto, eccolo qua, ma vi rendete conto, lo stiamo vedendo, c'è scritto poi in un suo tweet dell'epoca, io le mascherine metto pure sulle mani, è una cosa orrenda contro quelli che non si vaccinavano, che non si mettevano le mascherine, hai capito? Quindi io comprendo anche chi si può essere spaventato, ripeto, dal Presidente in giù, però adesso è il momento, è il momento dell'abbraccio, è il momento della riconciliazione, va anche un po' evitata la strumentalizzazione sotto forma di ricatto, le querele, adesso hai visto questi che fanno? Ti è guerrero, ti faccio, ti è guerrero, poi ogni tanto lo fanno, no? Poi ovviamente finisce tutto in cagnara, però è una forma di intimidazione, comunque devi spendere dei soldi, gli avvocati, quindi bisogna sempre evitare di cadere nella loro trappola, nella trappola della provocazione, nell'attesa di una reazione e quindi di una loro azione alla reazione, ovviamente con la complicità di chi dall'altra parte poi... capito? Cioè chi gli vieta a questi signori di mettersi d'accordo nel creare, nel provocare e poi creare una reazione e poi punire la reazione? Allora noi siamo fessi se ci cadiamo, diciamo a quella infiotano, devi diglielo, no, se glielo dico poi io finisco nelle forche caudine e voi vi dimenticate di questo scemo che parla e di tanti altri. Allora bisogna essere anche prudenti, intelligenti e non cadere nelle trappole. Quando uno stupido dall'altra parte oppure una persona furba vuole fregarvi, cerca di portare il discorso dalla sua parte nel territorio dove lui è più forte e voi dovete uscirne fuori. Noi sappiamo che questa cosa era una puttanata, voi l'avete detta e noi continueremo a mostrare al pubblico, alla gente quello che è stata una vostra cosa gravissima, quello che è stato un atteggiamento violento nei confronti delle persone per bene. Quello mostriamo e lasciamo che la gente giudichi e vi chiediamo. Avete sbagliato perché vi siete sbagliati? C'è qualcuno che risponde no, soffida una mignota. Ma io non posso giudicare. Noi abbiamo una poltrone e un microfono e diciamo noi mostriamo che avete sbagliato. Lì c'è un posto dove ci venite a raccontare perché. Sul fatto che avete sbagliato non lo diciamo, noi lo dicono le carte. Quindi quello è, come dicono gli avvocati, per tabulas. Che era una stronzata è per tabulas. Perché lo avete fatto? Beh, è chiaro che il sospetto... Tutti pensiamo... Dai, non siamo ipocriti. Tutti pensiamo che voglio dire poi, come diceva Falcone, segui i soldi. Però non possiamo accusare poi le singole persone. Gli diciamo, qui c'è una poltrona, vieni a spiegare. Non vieni, non vuoi venire qui, vai da un'altra parte, fai quello che vuoi. Se poi non ci racconterai perché, oppure se non ti... o addirittura si rincarerà la dose, le persone continuano a avere legittimità di pensare quello. Ma siccome è complesso provarlo, basta allontanarsene. Basta renderli no, basta lavorare per fare in modo tale che nei sistemi democratici queste persone vengano messe da una parte. Scandaloso che i sanitari Novax rimangano al loro posto. Ma che cazzo... Scusami, abbiate pazienza, lasciatemi qualche romanità, qualche piccola scivolone romanesco. Ecco, ma tu che ne sai? Fatemelo rivedere. Che ne sai tu, Buonaccio? Che ne sai? Perché? Sei forse tu uno scienziato che partecipa ai gruppi, no? Ai gruppi di controllo. Perché è scandaloso? Che hanno fatto di male? Abbiamo scoperto nulla, no? Anzi era il contrario. E quindi? Ti sei scusato per questo? No. E quindi anche tu nell'elenco. Volevo chiudere questa cosa proprio così, cioè invitando sempre le persone che ci ascoltano alla riflessione. Non lasciatevi andare a giudizi immediati o a insulti, etichettamenti. Pensiamo perché sono accadute delle cose, aspettiamoci una reazione. Seguiamo quelle persone che cercano di parlare di questo, cioè di indurre gli altri ad una reazione. Dopo possiamo giudicare eventualmente. Dopo, molto dopo. Molto dopo. Dice, ma è già passato il tempo, menamo io. No. Ora è il momento, perché ora le carte sono sul tavolo, ora cominciano ad essere distribuite, diffuse. Sapete con quante persone io ho parlato che sono totalmente all'oscuro della vicenda reale e che dopo che gli hai fatto vedere le carte sudano. Qualcuno piange pure. Gente che poi ti richiama perché non me l'hai detto prima? E perché io non è che posso, cioè, magari amici, capito? Persone che sono mie amiche, ma magari non ti sentono alla radio, ok? Quindi c'è una mega ignoranza indutta.